Ciao a tutti, mi auguro che state tutti bene e vorrei invitarvi alla nostra riflessione di questa settimana. Nel libro della Genesi troviamo la storia della creazione, troviamo Dio che crea tutte le cose e lavora con le sue mani, formando dalla povere dalla terra, l'essere umano, a sue immagini e somiglianze. Dopo aver formato l'uomo, Dio pianto un giardino in Ed, e vi posi l'uomo che aveva formato per che lo lavorasse e lo costruisse. Ma è successo qualcosa, l'essere umano peca e viene expulso dal giardino. Ma Dio continua la sua opera, e attraverso il suo unico figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, che è lo spiechio della sua gloria, l'immagine perfetta di chi è Dio, come dice in Hebrei, capítulo 1, versetto 3, Dio ripristina tutto, compreso l'essere umano. E il profeta Isaia, nel capítulo 60, versetto 21, annuncia questa opera dicendo, Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti, essi possederanno il paese per sempre, essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria. Si nota che sia l'inizio della creazione, al momento dell'adempimento di questa profezia, l'uomo, come risultato dell'opera delle mani di Dio, è formato a immagine e sua omoglianza di Dio, per essere come Gesù, lo specchio della sua gloria, per manifestare la sua gloria. E infatti, non solo l'essere umano, ma tutta la creazione, l'intera opera di Dio manifesta la sua gloria e rivela chi è Dio. Vedi, per esempio, cosa dice il Salmo 19, versetto 1, I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. E l'apostolo Paolo affirma inoltre che Quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divintà, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Romani, capitolo 1, versetto 19 alle 20. La gloria di Dio si manifesta. Dio è conosciuto, cioè i suoi attributi invisibili, il suo potere eterno, la sua natura divina, sono visti attraverso dell'opera delle sue mani, del suo lavoro. E quanto a noi? Questo vale anche per noi, una volta che siamo fatti alla immagine e somiglianza di Dio, credo di sì, che lasciamo sem di chi siamo nei lavori che facciamo. Proprio come possiamo riconoscere un artista, un autore dai dettagli, dalle caratteristiche del loro lavoro, possiamo imparare anche molto su di loro attraverso le loro opere. Le opere delle nostre mani, la qualità di ciò che facciamo e il modo in cui facciamo le cose, rivela qualcosa su di noi, manifestano le caratteristiche di ciò che siamo. E il lavoro delle nostre mani sono come una tela, un specchio che riflette che siamo. Ma dobbiamo stare attenti a non confondere le cose. Le nostre opere rivela che siamo, ma non è vero e il contrario. Come siamo l'immagine di Dio, ma Dio non è la nostra immagine. Non siamo il riflesso del nostro lavoro. Il lavoro è il nostro riflesso. Non è il lavoro delle nostre mani che determina che siamo, né determina il nostro valore e la nostra dignità. E chiarire bene questa cosa è molto importante. Il nostro valore, la nostra dignità sono in Dio, quello che siamo sono in Dio, e non nel lavoro che facciamo. Pertanto, lavoriamo solo e facciamo le cose con amore, con onestà e ben fate, non per avere un nome, non per essere riconosciuti e apprezzati, ma come risultato naturale di ciò che siamo, di che siamo essendo fatti in Cristo, in Cristo Gesù nostro Signore. Siamo opere delle mani di Dio, per manifestare la sua gloria. Anche per mezzo del nostro lavoro, delle opere delle nostre mani. Che Dio ti benedica con gratis e pate. Nel nome di Gesù. Amè.